Buonasera a tutti dal vostro grande capitano Napoli e benvenuti in questo nuovo video. Intanto saluto un iscritto che mi ha chiesto di essere salutato Carlo nel 07. E' appena terminata la prima partita dell'avventura del Torino in Europa League, appunto Torino-De Preceni, gli ungheresi del De Preceni, valevole per il secondo turno preliminare di Europa League, ed è terminata con la netta vittoria per 3-0 del Torino al ventesimo su Belotti sul rigore netto che c'era, al quarantaduesimo sulla linea qualaterale di Ansaldi, non so quanto voluto, e nel finale 3-0 del Torino di Zaza sulla spizzata sul cross e dentro l'area di Bremer. Con questo risultato il Torino ha ipoteccato il passaggio del turno, per il ritorno che ci sarà tra una settimana in Ungheria, e il Torino potrà accedere, salvo clamorose cose che potrebbero succedere, nella gara di ritorno al play-off di Europa League. Si è visto già in forma il Gallo Belotti, già in una buona condizione fisica, un giocatore che mi ha impressionato tanto, è il numero 36 del Torino, brasiliano, Bremer che ha giocato in questa difesa 3, comunque un Torino insomma che si è visto comunque la netta differenza tecnico-tattica tra il Torino e questi Ungheresi del De Preceni, si è visto proprio questa netta differenza tra le due squadre, comunque un buon Torino che incomincia bene la sua avventura in questa Europa League, battendo 3-0 di Ungheresi e De Preceni, tra una settimana ci sarà la gara di ritorno, complimenti comunque al Torino, non è mai facile al 100% queste partite. Vi auguro un buon proseguimento di serata del vostro grande Capitano Napoli, mettete un bel like a questo video, chi non si è ancora iscritto al mio canale, iscrivetevi, iscrivetevi al mio canale, sempre e comunque a Forza Napoli, una buonanotte del vostro grande Capitano Napoli, ciao a io!